E' stato quasi un allenamento per l'undici di Cappellacci contro il Luco Canistro, tutto secondo pronostico, anche se forse non ci si aspettava una vittoria così ampia nelle proporzioni. Un 7-0 che si commenta da solo e che dimostra il grosso dislivello in campo tra le due formazioni. Se contro l'Agnonese il San Nicolò e i Biancorossi erano usciti vittoriosi dai rispettivi confronti, ma con qualche apprensione di troppo, contro il Luco non c'è stata proprio partita, in virtù di un maggior tasso tecnico ed una migliore disposizione tattica dell'avversario che non è esistito. E' vero che la squadra di Promutico era priva di otto titolari ed è arrivata al comunale con mezzi propri solo 30 minuti prima dell'inizio della gara, ma queste non sono affatto giustificazioni per una debacle che ci sta tutta contro la capolista. Davanti a circa 1.500 spettatori, il tecnico Terramano rimescola di nuovo le carte, lasciando in panchina Borrelli, Masini e Ferrani, per dare spazio a Arcamone, Speranza e Laboraggine, viste le assenze forzate di Valentini e Ciampi. Al termo bastano 20 minuti per mettere al sicuro il risultato, al diciottesimo Bucchi apre le marcature al ventunesimo Arcamone. Il primo tempo è assenso unico, il pubblico si diverte e lo spettacolo non manca, del Luco a Canistro non c'è traccia. Il Diavolo chiude la prima frazione sul 4-0 e le altre due reti portano la firma di Speranza di testa al 43-esimo e di Bucchi al 45-esimo. La ripresa si apre ancora con i biancorossi in avanti, gli ospiti non riescono a contenere le folate dei padroni di casa, capaci di verticalizzare il gioco a proprio piacimento. Al 52-esimo arriva il gol di Petrella. Due minuti dopo è Masini a fare centro su perfetto assist di Laboragine ed è ancora l'argentino che firma il suo ventunesimo sigillo all'84-esimo. Con questo ulteriore successo, un 7-bello, il Teramo mantiene invariato il vantaggio di 10 punti sulla seconda, la Civitanovese, e 12 sulla San Benedettese e l'Ancona. Alla fine il canistro esce dal comunale con 7 reti sul groppone ed il Teramo fa un altro passo verso la promozione.